Quali sono le opzioni di trattamento per l'orticaria? Esistono delle linee guida per la gestione dei pazienti affetti da questa condizione? Approfondiamo l'argomento con il professore Eustachio Nettis, responsabile degli ampollatori del centro di riferimento regionale delle malattie allergiche e immunologiche del Policlinico di Bari e vicepresidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Allora professore, incominciamo con le forme più lievi di orticaria. Qual è il trattamento in questi casi? Quando parliamo di forme più lievi ci riferiamo alle orticarie acute, lievi, cioè quelle orticarie che si risolvono nell'arco di qualche giorno, di qualche settimana. In questi casi si utilizzano solitamente corticosteroidi e antistaminici per brevi periodi. Se un orticaria acuta dovesse assumere una certa gravità, ad esempio con senso di soffocamento o sintomi gravi, in questo caso si può associare l'adrenalina, che è un farmaco salvavita che va fatto proprio quando l'orticaria acuta grave sta per sfociare uno shock anafilato. Nelle forme ancora più gravi invece qual è la soluzione o quali le soluzioni disponibili? Nelle forme ancora più gravi in questo caso ci dobbiamo riferire alle orticarie croniche, cioè quelle forme di orticaria che vanno ben oltre le sei settimane di durata. Sono forme che compromettono in maniera significativa la qualità della vita di questi pazienti e per i quali abbiamo diverse opzioni terapeutiche. Innanzitutto, come ci raccomandano le linee guida internazionali, bisognerebbe utilizzare un antistaminico di ultima generazione. Se in caso in cui questo farmaco, l'antistaminico di ultima generazione a dosaggio standard, che va preso continuativamente, non dovesse risultare efficace, si può aumentare la dose. Se nonostante l'aumento della dose persistono i sintomi, abbiamo la terapia innovativa, che è rappresentata da questo farmaco, presente in Italia nel 2015, denominato omalizumab. E qual è il meccanismo d'azione di questo farmaco? Il meccanismo d'azione è piuttosto semplice. È un farmaco, un anticorpo monoclonale, che ha la capacità di legarsi alle IgE, i cosiddetti anticorpi dell'allergia, che sono presenti nel sangue e nei tessuti dei soggetti con orticaria cronica, in questo caso cronica spontanea. Andandosi a legare alle IgE, si riducono i livelli di IgE e contensualmente si riduce la quantità di istamina presente nel nostro organismo. L'istamina è il mediatore più importante che è responsabile delle forme di orticaria cronica spontanea, cioè responsabile della formazione dei ponfi, dell'angioedema e del prurito. Come va somministrato? E ci sono delle particolari condizioni AIFA per la sua prescrizione? Sì, intanto diciamo che la somministrazione è piuttosto semplice. Se si somministra attraverso delle semplici iniezioni sottocutane si fa una iniezione al mese per cicli, cicli solitamente di sei mesi. La somministrazione è piuttosto detto semplice che permette una alta aderenza di questo trattamento da parte del paziente. Per quanto riguarda l'AIFA, ovviamente non tutti i pazienti possono avere l'omalizumab, ma è riservato a quei pazienti dove, nonostante la terapia dell'antistaminico di ultima generazione a dosaggio standard, continuano a persistere i sintomi, cioè non si ha un controllo completo dei sintomi. In questo caso, noi possiamo prescrivere in questi pazienti l'omalizumab attraverso un piano terapeutico. Quindi è a disposizione degli specialisti? Sì, assolutamente sì.